Fratelli e sorelle nerazzurri, campioni d'Italia, buonasera, Genoa-Inter 2-2, mi girano già dopo la prima. Due punti buttati veramente nel gabinetto, non ce l'ho con i ragazzi per la prestazione, perché la prestazione c'è stata. Il risultato da un certo punto di vista ci potrebbe andare stretto, ma dopo che per 19 minuti le migliori occasioni ce le abbiamo noi, rischiamo solo con un contropiede, con un'ottima chiusura di Sommer, un'ottima lettura di Sommer, Sommer poi che ti fa la frittata su un calcio di punizione, legge male la traiettoria della palla, la vuole bloccare, non si accorge che c'è la traversa, il pallone sbatte sulla traversa, arriva a Vogliacco che fa 1-0 e ti ritrovi sotto dopo aver fatto 20 minuti in attacco. Per fortuna non perdiamo la testa, la pareggiamo al trentesimo con la Pantera-Turam, bel gol di Turam che subito la mette 1-1, finisce il primo tempo su questo risultato, il mister cambia pure modulo, mette le tre punte pur di recuperare, vincere subito all'esordio, fa entrare Frattesi, fa entrare Taremmi e quindi abbiamo Turam, Taremmi e Lautaro Martinez, riusciamo a passare in vantaggio, intanto il gol viene annullato per fuorigioco, per fortuna il VAR cambia l'idea dell'arbitro perché non c'è fuorigioco e quindi il gol bello di Turam col pallonetto vale, 2-1 per fortuna perché già a noi era stato annullato un gol per fuorigioco, quello più evidente, quello era fuorigioco, c'era stato annullato un rigore dal VAR ma il rigore non c'era, quindi giusto così, a tre minuti dalla fine, tre minuti dalla fine al novantatresimo l'errore, grossolano, stupido di Bissec che dopo aver fatto un partitone su un cross, veramente innocuo, lui che fa allunga il braccio, la tocca col polso e a tre minuti dalla fine regala il calcio di rigore al Genoa, che viene trasformato in seconda battuta da Junior Messias dopo che Sommer l'aveva parato, fortuna vuole che il pallone resta lì e al novantatresimo il Genoa la pareggia, continua il tabù Marassi, continua il tabù Genova, non si vince mai a Genova, per fortuna ci si va una volta l'anno, si comincia l'anno con un pareggio, poco importa, non è così grave, certo Brucia non vincere all'esordio, ma sapevamo che sarebbe stata una partita ostica, a me Brucia è da fastidio che due punti li abbiamo buttati nel gabinetto, per un calcio di rigore regalato al novantatresimo e un gol praticamente servito da Sommer, il resto della partita l'abbiamo fatto noi e con tutto ciò andiamo a casa con un punto, detto questo adesso testa alla partita in casa, la prima in casa contro il Lecce, bisogna vincere assolutamente, un saluto e forza Inter!